La legge di bilancio per il 2024 in corso di approvazione in Senato reca un miliardo e mezzo in più per la ricostruzione post-sisma 2016. Quindi un'ottima notizia che si aggiunge allo stanziamento che renderà possibile la stabilizzazione di circa 400 dipendenti di comuni e uffici regionali danni impegnati sul fronte della ricostruzione. Buone notizie che si aggiungono agli esiti della cabina di coordinamento che grazie alla fattiva collaborazione con le regioni interessati hanno prodotto una nuova programmazione di scadenze e soprattutto sul piano della ricostruzione pubblica fissa le condizioni per affidare i lavori di circa 1500 opere pubbliche per un valore complessivo di un miliardo e mezzo. Grande collaborazione con i governatori, grande concretezza, questo è il cambio di passo che da tempo si attendeva e che finalmente nella ricostruzione post-sisma 2016 è diventato realtà.